ciao a tutti ragazzi sono qui per aprire con voi la casella numero 16 ieri ho aperto la 15 e oggi apriremo insieme a tutti voi la casella numero 16 che sta a fianco alla 9 e alla 20 eccola qua vediamo che cos'è è un orologio è un orologio a pendolo un altro orologio a pendolo ah Grazie. 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 Ecco che ci ha inbegato tutto questo tempo. Eccolo là. Ok. Giornal numero 16. Si tratta di questo. Olorogia a pendolo. Vedete. Un bellissimo olorogia a pendolo antico. Vedete. C'è inbegato tempo a montarlo però ce l'ho fatta. Eccolo qui. Bene. Queste là. Mancano solo 8 caselle da aprire. Bene. Noi ci vediamo domani con l'apertura della casella successiva. Ciao a tutti. Ci vediamo. Ci vediamo al prossimo video.